La Reggio Calcio continua a crescere da vita alla prima scuola Calcio Inter in Emilia Romagna, mentre sul fronte della logistica la società del presidente Giulio Cigarini sta aspettando con ansia che inizino i lavori del comune in via della Canalina, nella speranza di poter poi tornare alla normalità già nel corso della stagione ormai alle porte, sul piano della progettualità il gruppo sportivo Biancorosso ha dato vita ad una richiesta ben precisa dell'Inter, realizzare la prima scuola Calcio Inter in Emilia Romagna. Per soddisfare tale richiesta, davvero importante e ambiziosa, Ives Motti e compagni hanno raggiunto un accordo con il Circolo Ondechiare di Via Settembrini, gestito da Alberto Costoli, che metterà a disposizione della Reggio Calcio per tutta la prossima stagione, quindi da settembre a maggio, il proprio campo in erba sintetica di ultimissima generazione. Le iscrizioni che sono già aperte sono riservate a ragazzi e ragazze nati negli anni 2015 e 2016. La scuola Calcio Inter, prima in regione, come abbiamo già detto, vedrà impegnati sul campo delle Ondechiare tanti allenatori del vivaio Nerazzurro, oltre ai tecnici qualificati della Reggio Calcio. Sentiamo a proposito di questo importante progetto Cosimo Fiorentino, vicepresidente della Reggio Calcio, Alberto Costoli, responsabile del Circolo Ondechiare e Fabio Mattioli, responsabile per la Reggio Calcio del Centro di Formazione Inter. Trascorsi sei anni come Centro di Formazione Inter, l'Inter è molto soddisfatta del nostro lavoro e ci ha fatto appunto questa proposta di aprire questa scuola calcio unica in Emilia Romagna, scuola calcio Inter a tutti gli effetti, felicemente abbiamo aderito, la location è questa, dove abbiamo portato appunto i dirigenti dell'Inter che sono rimasti entusiasti della location e ci saranno anche incontri dove potremmo essere chiamati ad andare a fare partite a Milano o meno, confrontarci con le altre scuole calcio Inter. Quindi il legame Inter-Reggio Calcio è sempre più solido? Sempre più solido, sì, abbiamo aggiunto un tassello in più che la scuola calcio Inter. Quando ci è arrivata la proposta, qualche mese fa ovviamente insomma abbiamo subito accettato di buon grado anche perché è uno stimolo per noi per continuare a crescere come stiamo facendo in questi ultimi anni con nuove attività. Unendo la professionalità della Reggio Calcio al nome dell'Inter vogliamo fare qualcosa in più anche per il nostro circolo. È chiaro che stiamo cercando adesso di guardarci intorno, di vedere se riusciamo a allargarci in qualche modo perché sono tante le richieste che purtroppo non riusciamo a soddisfare di nuclei familiari che vorrebbero venire da noi e ai quali ci dispiace veramente dover dire di no e proprio perché è chiaro che c'è una capienza che è limitata. Da quando siamo arrivati, quindi ormai quattro anni fa, abbiamo cercato di trasformare questo circolo che è prettamente estivo in un circolo che possa lavorare tutto l'anno. Inizia questo nuovo progetto qui presso il circolo Ondechiare in via Settembrini, sempre a Reggio Emilia, una proposta formativa che verrà svolta qua sui campi per l'annate del 2015-2016. Saranno possibili esperienze sia con i tecnici dell'Inter, sia con i tecnici preparati della nostra realtà e anche con società legate sempre con l'Inter che formano questo grande progetto di scuole calcio anche al di fuori della regione Emilia-Romagna.